Ciao, eccoci con la consuetta rubrica top 5 video dove ho selezionato i 5 migliori video realizzati da altri insegnanti di tennis e pubblicati la settimana scorsa su youtube li ho selezionati e messi in un'unica pagina in maniera tale che tu possa consultarla, vederla senza andarli a cercare in giro per internet. Per vedere questa rubrica è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter, c'è il link qui in alto a destra se ci stai guardando nel nostro canale youtube oppure clicca sul link presente nella nostra biografia sul profilo instagram oppure pagina facebook. Nel primo video Brady di Daily Tennis Lesson analizza e spiega come colpire la palla alta con il dritto, un colpo essenziale soprattutto per mettere pressione all'avversario e togliergli il tempo. Nel secondo video invece Roberto Babini di Marina Romea ha intervistato Federico Di Carlo e assieme hanno parlato di ritmo di gioco e anche zona di flow. Nel terzo video invece i ragazzi di Top Tennis Training analizzano il colpo del dritto e forniscono dei consigli per migliorarlo, consigli veramente validi. Nel quarto video invece Jamie Murray propone qualche esercizio per rinforzare la muscolatura delle gambe, esercizi che si possono fare tranquillamente a casa e senza attrezzi. Nell'ultimo video invece Thomas di Field Tennis propone qualche esercizio che può essere fatto anche qui a casa per allenare il rovescio a due mani.